Affrontiamo ora uno dei massimi esponenti della storia della pedagogia, Jean-Jacques Rousseau. Il trattato pedagogico intitolato Emilio, pubblicato nel 1762, può davvero annoverarsi come uno dei capolavori della storia della pedagogia mondiale. Nella storia Emilio, questo trattato, rappresenta davvero una barriera, una frontiera per tutti noi intellettuali che ci occupiamo appunto di educazione e di pedagogia, perché rivoluziona completamente, grazie anche a un pensiero filosofico e pedagogico congiunti e sinergici appunto, rivoluziona completamente il modo di fare educazione. Rousseau pensa ed è fermamente convinto che la società in cui vive sia una società corrotta. Già aveva avuto modo di scrivere e di elaborare questa riflessione in maniera molto approfondita in due discorsi che erano stati pubblicati nel 1750 e poi nel 1754, nei quali appunto il filosofo ginevrino attaccava la corruzione della nobiltà e soprattutto riteneva che la società francese fosse una società corrotta che andasse riformata completamente dalle basi. Per fare questo Rousseau è fermamente convinto che si debba cominciare dall'infanzia. Dunque il progetto pedagogico che sta alla base dell'Emilio, opera molto corposa suddivisa in cinque libri, che segue pari passo la vita di questo giovane protagonista che è Emilio, appunto questo trattato spiega esattamente come riformulare le metodologie educative e le buone prassi pedagogiche per formare un perfetto cittadino educato nella libertà, educato ai valori civili, che nell'età adulta, ovvero a 25 anni, dovrà ritornare nella società e riformarla completamente. La trama di questo trattato pedagogico è assolutamente affascinante perché i protagonisti sono soltanto due e Rousseau segue passo passo Emilio dalla nascita fino appunto all'età adulta di 25 anni. Il precettore, che non a caso si chiama Jean-Jacques, predispone tutti gli elementi educativi. Per esempio, fin dall'esordio si dice che Emilio deve essere un bambino assolutamente normale, deve essere francese perché i francesi, afferma Rousseau, hanno una razionalità superiore agli altri popoli e quindi questo bambino avrà un'intelligenza con la quale potrà affrontare le difficoltà della vita, dovrà essere un bambino appunto normale, non avere nessuna disabilità perché, dice sempre Rousseau, afferma Rousseau, il precettore non può essere un infermiere, deve essere appunto un precettore dotato di grandi abilità e competenze pedagogiche. Jean-Jacques e Emilio percorrono varie esperienze nell'intero libro e soprattutto alcune sono decisamente nuove e in controtendenza. Il bambino deve imparare solo ciò che lo incuriosisce, solo ciò che è necessario alla sua vita, alla sua sopravvivenza, deve imparare a mettere a frutto tutte le sue competenze anche in situazioni assolutamente agli estremi della propria sopravvivenza, come per esempio un episodio che passò alla storia molto come molto famoso perché Rousseau prevede che Emilio possa essere abbandonato in un bosco e debba essere costretto a ritornare a casa da solo. Emilio riuscirà in questo intento con le competenze che ha acquisito nel percorso fatto fino a quel momento con il suo precettore. Si tratta dunque di una formulazione pedagogica che privilegia un'educazione indiretta, un'educazione negativa. Ben più che un maestro, il precettore è colui che, assai simile alle maestre montessoriane, deve preparare quello che noi oggi denominiamo setting educativo, di che cosa si tratta. Emilio deve avere sempre l'impressione di essere assolutamente libero, di agire per propria volontà o per curiosità o per necessità, mentre invece è molto differente quello che è l'intento del suo precettore, ovvero predisporre tutto l'ambiente in modo tale che Emilio sappia come desumere da questo ambiente, da questo setting, tutte le competenze che gli sono necessarie. Il libro si apre con una grande dichiarazione di intenti, puerocentrismo potremmo definirlo già ben prima di Pestalozzi e Frebel. Perché puerocentrismo? Perché in realtà tutte le energie del precettore e della società che sta intorno a Emilio sono rivolte a farlo crescere in maniera armoniosa, sana, non è un caso che appunto la dimora in cui Emilio e il precettore vivranno sarà sempre in mezzo alla natura, una casa di campagna, la natura educa, dice Rousseau. La sensorialità dei bambini viene stimolata in maniera maggiore all'interno di un contesto naturale e dunque la natura sarà il luogo e l'ambiente ideale per far crescere Emilio. Una volta però adulto, Emilio, che sarà un puro potremmo dire, un eticamente corretto, Emilio rientrerà nella società parigina e tornerà, se ne ritrarrà in un ridito perché quella società non sarà ancora riformata e riformulata secondo i dettami e le riflessioni di Rousseau stesso. Quindi un adulto che è vissuto ed è cresciuto in maniera corretta va a vivere però in una società corrotta e non si integra, non la comprende, tant'è che Emilio ritornerà alla fine del romanzo a vivere in campagna, sarà un buon marito e un buon padre di famiglia.